Hanno cavalcato l'onda del successo a cavallo tra gli anni 80 e 90, ma hanno anche avuto la capacità di non sparire. Hanno siglato colonne sonore di film famosi, cult, come 007, in occasione della pellicola Bersaglio Mobile, il primo tra l'altro con Roger Moore, che aveva nel cast anche Grace Jones. Eppure ancora oggi i Duran Duran non sono scomparsi, anzi, alla loro storia di oltre 40 anni, con ascese vertiginose, cadute e resurrezioni insperate, è stato dedicato anche un libro di Stephen Davis. Che ha provato a mettere insieme in Please, Please, Tell Me Now, la storia dei Duran Duran, edita da Il Castello, Cinaschi Edizioni, tutti gli aneddoti della band. Attraverso interviste esclusive, membri del gruppo, ma anche amici, collaboratori, ecco che il giornalista e biografo rock ha ricostruito la storia della band dagli esordi nel 1978 e fino ai giorni nostri. In realtà il libro è uscito a fine 2022, è arrivato dopo l'altrettanto e relativamente recente inserimento nella Rock and Roll Hall of Fame per la band, riconoscimento che sembra riequilibrare gli anni di critiche, anche ironie che abbiamo vissuto e che è arrivato anche in un anno che ha visto il gruppo in grande salute, con un disco ispirato come l'ultimo, Future Past, e un tour di grande successo tra Europa e Stati Uniti, tra l'altro in Europa proprio in queste settimane. Ma questo è il passato recentissimo, quello a cui il libro di Davis non è arrivato naturalmente. Il biografo, noto soprattutto per un libro sui Led Zeppelin, ha preso in considerazione invece quell'epoca che va dalla fine degli anni 70, quando la band si era formata appunto a Birmingham nel Regno Unito, fino al 2020, arrivando alle soglie del quarantannale del primo album, i cui festeggiamenti sono stati per forza di cose posticipati a causa del lockdown che ha interessato un po' tutto il mondo a causa del covid. In realtà il libro ha lasciato anche un po' perplessi i fans, almeno per un aspetto, cioè la scelta di definire il gruppo una boy band, al pari dei New Kids on the Block, dei Tech Death, dei Backstreet Boys, e così via. Noi allora, con un'operazione un po' nostalgia, vogliamo ricordare chi erano, anche e soprattutto indietro negli anni e prima degli anni 90, in particolare proprio quando firmarono la colonna sonora di James Bond con A View to a Kill, tradotto in italiano con il titolo del film Bersaglio Mobile. Pubblicato nel 1985, è l'unico singolo dell'intera serie dei film ad avere raggiunto la prima posizione nella Billboard Hot 100. La canzone venne scritta dal gruppo insieme a John Barry, storico compositore proprio dei teams delle colonne sonore di James Bond. I Duran Duran furono scelti dopo un incontro casuale tra il bassista John Taylor, da sempre fan di James Bond, e il produttore Albert Broccoli in occasione di una festa. Il brano venne poi registrato nella primavera del 1985 a Londra, con una orchestra di ben 60 persone. Fu l'unica canzone, e l'ultima in realtà incisa dal gruppo, prima dell'abbandono del batterista Roger Taylor, e venne eseguita in diretta a TV all'Aivede di Philadelphia. Il videoclip del brano è stato diretto da Goodlay & Cream, registrato a Parigi, tra l'altro dove appunto si svolge buona parte del film, e viene alternato con immagini della band sulla Tour Eiffel e quelle di Roger Moore proprio nella pellicola. Pubblicato in concomitanza con l'uscita del film nelle sale cinematografiche e View to a Killer raggiunse, come detto, la vetta della Billboard Hot 100 il 13 luglio del 1985, scalzando su studio di Phil Collins. Era la prima volta che una colonna sonora di James Bond conquistava il gradino più alto della classifica statunitense. Nel Regno Unito mantenne invece per tre settimane consecutive il secondo posto, dietro a Nineteen di Paul R. Castle, senza mai raggiungere però la vetta. Bond riuscirà a conquistare la cima della Official Singles Chart soltanto con Writings on the Wall di Sam Smith, tema ufficiale di Spectre nel 2015. Noi adesso torniamo indietro allora al 1985. 1,85 a 5 a öz Grazie per la visione!